Noi diciamo che lavoriamo già da anni per contrastare la violenza sulle donne. Già nel 2008 abbiamo realizzato il progetto Basta, fu un progetto molto importante dove noi riuscimmo ad avere un finanziamento del Ministero delle Pari Opportunità e fu uno dei pochi comuni italiani ad avere questo finanziamento che si sviluppò per due anni, diciamo fece un grosso processo di sensibilizzazione sia nelle scuole sia verso gli operatori del settore, furono organizzati corsi di autodifesa, corsi di autostima per le donne. Per due anni abbiamo lavorato in questo modo. Dopodiché chiaramente c'è stato un momento di pausa, il passo successivo è stato l'apertura dello sportello antiviolenza che è operativo da dicembre, è nel centro polifunzionale, è formato da delle professionisti che sono psicologhe, un avvocato, un assistente sociale e un'educatrice che offre assistenza telefonica 24 ore su 24 alla donna o alle vittime di violenza ma soprattutto offre consulenza psicologica e legale, aiuta in un certo senso le donne a intraprendere un percorso, a riconoscere innanzitutto la violenza, soprattutto quando è violenza psicologica e aiutarle a liberarsi e spesso anche a denunciare. Il bilancio è molto positivo, diciamo che rispetto alla volta scorsa dove pure avevamo un numero verde e dove quasi nessuno li chiamò, come dire, anche perché per denunciare, perché comunque il nostro paese è un paese piccolo dove tutti si conoscono, dove la donna teme di denunciare, teme di perdere l'anonimato eccetera. Questa volta invece le donne partecipano attivamente, le operatrici mi hanno detto che c'è un buon afflusso di utenti e quindi si vede che in questi anni comunque quello che è stato fatto ha avuto un risultato. Esatto, io mi occupo di fornire consulenza legale alle donne vittime di violenza che decidono di recarsi al centro non da sola e credo che il primo passo per fare in modo che loro riescano ad uscire dalla spirale della violenza sia rendere chiaro il concetto che gli atti di violenza appunto fisica, psicologica, sessuale, economica spesso integrano dei veri e propri reati. Possiamo pensare immediatamente al reato di maltrattamento in famiglia, alle violenze sessuali, alle lesioni e molti altri ancora. Il problema diciamo è che però spesso la donna vittima di violenza fa fatica a riconoscere tali comportamenti come penalmente rilevanti oltre che per svariate ragioni di ordine psicologico anche per la stretta relazione che esiste appunto tra vittima e reo in questo tipo di reati.